Buonasera a Gerard Haddad, autore del libro Tripallium sulla questione del lavoro e cominciamo con una prima domanda. Questo libro Tripallium comincia con la tua esperienza di ingegnere agronomo in Africa e conclude intorno all'esplorazione che Freud fa del lavoro onirico. Ci puoi dire qualcosa di quella che, se ho ben capito, è stata la prima esperienza lavorativa, prima ancora di formarti come psicanalista con Jacques Lacan? L'idea di questo libro l'ho elaborata durante la mia analisi con Lacan. Usciva in questo tempo del mio lavoro di agronomo, sono partito di Africa in 1969, avevo continuato a lavorare come agronomo, ma nello stesso tempo facevo l'analisi e continuavo il mio lavoro di agronomo. L'idea originale è venuta ad un incontro con un filosofo marxista che si chiama Louis Althusserl e io in questo libro ho cercato in un certo modo di fare il legame tra queste due parti importanti della mia vita. Come agronomo vuol dire una persona che si confronta ai problemi della fame nel mondo, ai problemi del sottosviluppo, come fare di questi paesi che sono usciti in questi anni sessanta del colonialismo e come poter arrivare a un certo sviluppo e a questo momento oggi l'Africa va molto meglio, vediamo che hanno un percentuale di crescimento importante, importante, dicono anche che l'Africa forse è l'avvenire del mondo, ma negli anni sessanta c'era un libro famoso di un mio maestro che si chiamava René Dumont, aveva detto l'Africa è mal partita. Questi erano i dati sui quali io mi sono confrontato e io all'inizio come agronomo cercavo le ragioni per le quali i contadini tradizionali rifiutano le nostre proposte di migliorare, come migliorare? Per migliorare in economia si deve, come si dice in francese, non so come si dice in italiano, mettere dentro di più e più energia. Iniettare energia, iniettare. Sì? Sì, energia. Questa energia non poteva venire almeno in questi villaggi che dell'energia animale, introdurre l'energia animale o l'energia dell'acqua con l'irrigazione nella produzione. E queste due grandi rivoluzioni delle tecniche, questi africani che avevano sotto gli occhi i risultati, non volevano entrare in questo processo. Allora io avevo una questione, ma perché? Anche tutti i colleghi avevano l'impressione che questa gente non solo era sviluppata sul punto di vista tecnico, ma anche, diciamo, con un po' di razzismo, anche sottosviluppati intellettualmente. Ma io ho scoperto così, in un caso accidente, diciamo accidentalmente, che non era vero che questa gente in certe condizioni potevano essere molto curiose per certe tecniche, e come la verità di Riso, di Gratulco o di Sorbo, per esempio. Allora perché qualche volta accettano le trasformazioni e in altri casi non accettano? Sono arrivato all'idea in questi tempi sul punto di vista territoriale, era il gran tempo del strutturalismo. Io mi considero fino a oggi come uno strutturalista che cerca di prendere, per esempio, la complessità di un mito, di viderlo in tale, possiamo dire anche che è una specie di post-cartesianismo, di dividere una difficoltà in piccole difficoltà. E la minima delle difficoltà l'ho chiamata molecola di lavoro. E ho cercato a capire quale sono, a dividere il lavoro del contadino africano, del contadino di tutti i paesi, in molecole di lavoro. E l'ho chiamata questa molecola chantier, e alla mia sorpresa ho trovato che queste molecole di lavoro non erano di tanti tipi, ma solo di tre tipi. Il primo tipo è quello che avevo sotto gli occhi, il tipo del lavoro del contadino, dei miei contadini del sud Senegal, della Casamance, gente molto che ama il lavoro, non erano gente pigra, erano delle gente che hanno dei lavori tremendi, che lavorano nelle risaie della Guinea, con questi alberi vicino all'armale, si chiama mangrove, in italiano. Sì, e se puoi riprendere questi tre cantieri, io posso anche accennare, no? Cioè, il cantiere primario, quello in cui ognuno ha il stesso compito, no? Il cantiere primario era il cantiere tradizionale, dirò che rappresenta il lavoro al suo inizio. Quando gli uomini hanno cominciato a lavorare, vuol dire che cos'è un lavoro? Il lavoro, prima di tutto, è fatto di tre cose. C'è un soggetto che lavora, questo è fondamentale, questo soggetto ha un instrumento, questo instrumento può arrivare in queste civilizzazioni primitive al livello del sagrado e hanno un oggetto che debbano trasformare, questo è un lavoro. E dunque la molecola, il cantiere primitivo nel senso di origine, lo chiamo cantiere primario, nel quale quando ci sono tre, quattro persone e tutte queste persone fanno lo stesso lavoro. Non c'è una divisione qualitativa del lavoro, fuori dalla divisione sessuale. Per esempio, un uomo non può, come si dice per il riso, le picheme. Se un uomo vuole fare questo lavoro, mettere il riso nell'acqua, deve diventare una ceremonia che ho visto fare in Madagascar, diventa una donna, diciamo. fuori di questa divisione del lavoro, tutte le persone fanno lo stesso lavoro. E come ho detto in generazione della guerra, quando gli indiani all'inizio facevano un'attacca, tutti i cavalieri e indiani facevano lo stesso. Non c'era una tattica né una strategia, tutti fanno lo stesso. E' il primo che ho chiamato, e che rappresenta forse, diciamo, come il comunismo primitivo dei primi mobili che hanno i primi contadini per l'agricoltura. A un certo momento, per esempio, io penso in Cina e nell'India, è apparso un altro tipo nel quale c'è una divisione calitativa del lavoro. Uno fa qualcosa e il lavoro del primo soggetto è trasformato dal secondo soggetto, dal secondo lavoratore nel lavoro finale. Per esempio… come emergono le tre strutture del lavoro umano, queste tre strutture molecolari che hai identificato nel tuo libro? Io mi sono trovato nel mio progetto, io facevo parte di un gruppo di ingegneri e per noi il progetto era di sviluppare l'agricoltura di questi contadini, di sviluppare la cultura del riso e mi sono trovo in fronte a una specie di impossibilità, perché per sviluppare qualche cosa… ogni lavoro, ogni economia… si deve mettere… aumentare l'uso di energia e questa energia non può venire che di due origini o motori o animali. Per questi contadini a livello loro solo l'animale poteva essere almeno un primo passo per introdurre certe macchine come le aratre, per esempio, che loro non usano. E c'è una specie di impossibilità di reali… Lacan diceva che cosa è il reale? Il reale quando non si può fare quello che una persona vuole fare con qualcosa. In questo tempo ero sotto l'influenza del pensiero strutturalista di Lacan, evidentemente, anche di tutta questa bella scuola francese, di Claude David Strauss, per esempio, di Althusser, un filosofo che ho conosciuto. Il metodo l'unico che mi sembrava possibile era di dividere la difficoltà del lavoro, dunque, in unità minimale, come David Strauss divide la complessità di un mito in mite, molecole di mito. E io ho fatto lo stesso, ho voluto dividere in lavori agricoli in molecole minimali, la molecola è la cosa la più elementare di un corpo, e in molecole di lavoro. E alla mia sorpresa ho scoperto che queste strutture elementari sono in numero limitato, sono tre. Nel primo cantiere, nella prima struttura molecolare, tutte le persone fanno lo stesso lavoro, con gli stessi strumenti. Fuori della divisione sessuale, le donne fanno certi cantieri e gli uomini fanno. Ma tutte le donne fanno lo stesso lavoro, lo stesso movimento, gli stessi strumenti, anche per gli uomini. Direi anche per andare alla guerra era lo stesso. Gli indiani, quando attaccano un gruppo di bianchi, tutti erano su un cavallo, senza tattica, senza strategia. La nozione di tattica e di strategia necessita una divisione qualitativa. Dunque ho visto che per introdurre l'animale, la ratra, prendiamo questo esempio fondamentale. Si deve dividere qualitativamente il lavoro. C'è una persona che tiene gli animali, questi animali diciamo all'inizio selvaggi, una specie di canalizzazione dell'energia animale per trasferire questo lavoro alla seconda persona che tiene la ratra e questa ratra ritorna alla terra per fare il labu. Questo è il cantiere secondario. In questo cantiere secondario c'è l'introduzione, la cosa che è fondamentale è l'introduzione, non solo della divisione del lavoro, calitativa, ma anche l'introduzione di certe macchine semplici, come una ratra per esempio, e anche parecchi strumenti che per esempio i cinesi o i formosani usano e volevano anche loro introdurre l'agricoltura africano senza successo. E arriva un punto dove con l'apparizione del motore e dunque del trattore una persona, una sola persona è capace di fare per esempio il lavoro delle due persone che ho citato prima a quello che teneva le bue, i bue, gli animali e l'altro che teneva la ratra. E una persona solo può concentrare, condensare il suo lavoro, i lavori che prima c'era la necessità di parecchie persone per fare lo stesso lavoro. e dunque il terzo cantiere era il cantiere che ho chiamato condensazione dei lavori. Tutto questo l'ho fatto su un modo veramente, diciamo, innocente, fino al mio incontro con Lacan. Lacan si è molto interessato a questo lavoro e fu per me l'introduzione nella scuola freudiana e la prima volta che ho preso la parola in un congresso psicoanalitico era su questo soggetto con l'appoggio di Lacan. E dopo Lacan mi ha permesso di dire, mi ha aperto la scuola freudiana ai locali per organizzare un seminario su questi problemi. Io avevo veramente una resistenza per mettere in parallelo la mia, posso dirlo, la mia scopertina con il lavoro di Freud. fino a un punto c'era una persona in questo gruppo, in questo seminario, che mi ha detto ma signore, perché non leggere insieme l'interpretazione dei sogni di Freud nel quale c'è una parte che si chiama il lavoro del sogno. E con una certa resistenza, la verità sempre avanza con resistenza, la verità è una cosa che va diretto, dobbiamo buttare, non so perché, ma finalmente mi sono accorto che le strutture che ho visto nell'agricoltura africana o l'agricoltura anche generale, queste strutture minimali, fondamentali, sono le stesse che Freud ha trovato nella descrizione che ha fatto nei processi del sogno e possiamo dire anche della vita mentale, del psicismo. Solo che ho fatto una correzione a Freud, una piccola, una piccola, non so, abbastanza consistente. Freud mette in primo la condensazione, vuol dire che un solo, una sola cosa, una sola immagine condensa in se stessa tante idee diverse e ha messo dopo il déplacement italiano, spostamento, ma non si può condensare se non c'è prima un spostamento. Dunque penso che il spostamento è anteriore alla condensazione, come l'ho visto nell'agricoltura. Dunque grazie all'agricoltura potevo fare una piccola correzione dei processi di Freudiani. Questa era la base sulla quale ho lavorato. io ho introdotto un concetto nuovo che è la nozione di molecula di lavoro che ho chiamato cantiere. Io penso che questo concetto si può usare per capire che cosa succede nei processi economici economici di oggi. In un cantiere ci sono tre cose, non ci sono 40 cose, ci sono tre. C'è un soggetto con il suo desiderio, con il suo... una persona ha tutta la sua anima, la sua volontà, e ha un strumento e ha una materia prima che deve trasformare nel processo con il suo strumento. Che cosa si passa tra questo uomo, questo soggetto, confrontato all'instrumento e confrontato all'oggetto a trasformare. E io qui penso che sono due crisi fondamentali della modernità, il rapporto dell'uomo con i suoi strumenti e il rapporto dell'uomo con la materia prima, la materia croniera a trasformare. Io penso che è l'inizio di un lavoro questa cosa. Sì, per riprendere il sottotitolo del tuo libro, te lo pongo come domanda. Puoi dire allora, come c'è nel libro peraltro, ma io te lo pongo qui, il perché il lavoro è diventato oggi una sofferenza? Perché? Prima di tutto, io ero colpito di vedere che i contadini, per esempio, che fanno dei lavori terribili, possono molto penote, mai dicono che si sentono male o soffrono. era una specie di soddisfazione, anche in questa difficoltà, in questo poco rendimento. Perché oggi la gente si sente bene con il suo lavoro? Abbiamo due problemi. Il primo problema è la disoccupazione di massa. di massa che ogni mese in Francia, per esempio, ogni mese, adesso abbiamo ogni mese 20.000, 30.000 di più di disoccupati. Siamo arrivati a milioni. anche in Italia. Questo è il primo problema fondamentale. Il secondo problema fondamentale è perché la gente che ha lavoro non ne contenta spesso del suo lavoro, a tale punto che vanno fino al suicidio. Abbiamo avuto in Francia, penso in Italia lo stesso, un numero importante di suicidi della gente che avevano un lavoro. Piccoli padroni, operai e tutti quanti. Quindi, io penso, primo problema, l'introduzione di questo cantiere che chiamo condensazione. una sola persona fa il lavoro di tanto. Il progresso tecnico, il progresso scientifico, opera come una, come si dice, conosco la parola francese, una centrifugeuse. Queste macchine che girano e, come si dice? È una centrifuga. È un movimento centrifuga che espelle l'uomo, dici. Una centrifuga. Il progresso tecnico centrifuga il numero di lavoratori, le butta fuori. I contadini che erano 50% della gente francese nel 45-50 anni fa, oggi sono 2%. Siamo scesi di 50-55 a 2-1,8%. Questa centrifuga è veramente terribile. In Cina lo stesso, oggi. Allora, il primo movimento, questa gente che è buttata fuori del suo cantiere, del suo luogo di lavoro, nel quale trovevano la soddisfazione delle loro pulsioni. Si ritrovano prima nelle fabbriche, ma questa centrifuga, o nell'esercito, ma questa centrifuga continua a lavorare e butta anche fuori delle usine. Si può dire, Gerard, che le società occidentali e forse anche orientali odierne stanno diventando società in cui la disoccupazione è alta, sarà strutturale, è strutturale? È strutturale, senza altro. Vedo, per esempio, in Africa, ho lasciato l'Africa da tanto tempo, ma già a questo momento nelle grandi città, intorno alle grandi città come Dakar, come Abidjan, migliaia di genti disoccupati sono qua. Capire come possiamo, la confrontazione con questa centrifuga di questo progresso tecnico che va finalmente a un punto dove ci sono roboti che faranno già oggi il lavoro di migliaia di genti. C'è un problema. Il secondo problema è perché la gente che ha il lavoro, abbiamo l'esperienza oggi clinica di gente che si chiama il burnout, per esempio, che nel loro lavoro. È spesso un lavoro interessante, non solo lavori così parcellari, ma perché hanno queste manifestazioni di pressione, di non volontà di lavorare che può arrivare fino al suicidio. Io ho incontrato qualche caso e ho visto che le tecniche che noi abbiamo, le tecniche, la proche, la psicoanalitica non aiuta tanto. Non aiuta tanto. Allora io penso che consideriamo questa molecola il rapporto che gli uomini hanno con i loro strumenti e con questa famosa materia prima, prima, a trasformare. Freud ha avuto questa idea bellissima dicendo che il lavoro è il migliore veicolo per la sublimazione delle pulsioni che sono pulsioni aggressivi fondamentali. Se queste pulsioni non hanno una possibilità di realizzarsi tra il lavoro, tornano contro il soggetto stesso. Ecco nelle sue grandi linee l'analisi che faccio un'analisi forse un po' corte, ma io penso che è l'inizio di una riflessione nuova che prende le cose su base moleculare, vuol dire alla base, non prendere le cose di alto, parlando solo dell'esplotazione, del stress, ma anche prendere le cose che è diventato il desiderio umano, le pulsioni, come trovano la loro soddisfazione? Come questione? Com'è che l'uomo trova un'altra soddisfazione? Tu accennavi anche a questa, come chiamarla, a questa sorta di soddisfacimento che non è neanche sostitutivo, diciamo dell'importanza che hanno preso oggi il giardinaggio, il bricolage, cioè questi lavori in cui qualcuno può giungere a conclusione di qualcosa? Perchè devo dirlo? Dal mio, avevo scritto qualche anni fa un libro che si chiama sempre Freud in Italia, il titolo non conviene veramente al soggetto. In questo libro ho voluto sottolineare l'importanza del piede e anche della mano, del corpo, quello che nella etnologia chiamiamo l'homo faber. L'uomo ha bisogno di toccare le cose, di fare, che i suoi mani, i suoi piedi sono investiti nel processo, non si può solo lavorare su un schermo del processo, dopo qualche tempo il mio italiano fugge, ma va bene. Vediamo questi processi strani che gli uomini cercano a fare rivivere in loro questo uomo faber che sta morendo sotto i nostri occhi. Come lo fanno? Con queste attività che si motivano del giardinaggio, anche bricolage. Abbiamo qui a Parigi centinaia, nella regione parigina, centinaia di negozi che fanno sul bricolage, il giardinaggio, come se la gente aveva bisogno di… anche intellettuali, soprattutto diremmo intellettuali, hanno bisogno di ritrovare il contatto diretto della mano, del corpo, dei piedi con il lavoro che si è perduto nel lavoro tecnico e motorizzato a alto livello. Sì, una questione rispetto alla vita di questo libro. Tuttavia, come dire, è stato tra i primi lavori, però lo hai concluso dopo 40 anni? Sì, era il mio primo lavoro. Non era esattamente così, ma insomma era il mio primo lavoro e all'inizio l'avevo destinato a trovare il suo luogo di comprensione, diremmo, nel partito comunista, nei compagni di allora che avevo in questo momento, ero comunista, e questo dialogo che avevo con questo Althusser, anche con i suoi alunni come Balibar, tutto questo è caduto, niente si è fatto in questo campo. Quelli che hanno sentito, che mi hanno sentito, che hanno dato dell'importanza al mio lavoro, erano Lacan, la psicoanalisi. Oggi questo libro io lo considero soprattutto come un libro di psicoanalisi. e in questo libro io ho una specie, come sempre l'ultimo bambino è il preferito del padre. Noi scriviamo libri, abbiamo un po' questi sentimenti con i nostri libri. Dunque ho una specie di tenerezza per questo libro, perché in cui faccio una specie di unione della mia vita che è stata spezzata in parecchie parti, agronomia, psicoanalisi, psichiatria, giudaismo, eccetera. In questo piccolo libro tutte queste cose ritrovano una specie di unione, di coerenza. Bene, io Gerard ti ringrazio moltissimo, ringrazio anche per lo sforzo di cucinarti a parlare italiano. Ho fatto questo ieri, mi ha completamente, ero tanto stanco dopo, non so perché, mi è molto stancoso di parlare una lingua straniera, di cose abbastanza complesse, complicate finalmente. Speriamo di continuare. e continuiamo e ci diamo un appuntamento su altre questioni e su altre cose, se ci sarà l'occasione. un piacere. Grazie a Riccardo che ha fatto tutto questo lavoro. Grazie a te Gerard Haddad, grazie a tutti quanti, a presto. Vai, buonasera. Ok.